giorno dopo giorno ci sforziamo di spostare un po più in là i nostri limiti ci misuriamo con gli altri ma soprattutto con noi stessi negli anni la passione non cambia il modo di viverla sì mamma hai visto che gol vivi l'emozione in esclusiva rai europei di calcio uefa 2012 su tv web tablet smartphone radio e anche in hd